La pellicola di oggi è una pellicola uscita nel 2001. Ma è portata in Italia qualche anno dopo. È una pellicola che ha avuto problemi di distribuzione anche negli Stati Uniti perché la pellicola inizia con un incidente aereo. La pellicola doveva uscire a settembre ma a settembre gli Stati Uniti nel 2001 hanno avuto l'attentato alle Twin Towers, l'11 settembre. E quindi il film non è più uscito in quei mesi lì e gli anni a seguire non ha più avuto successo proprio perché è associato nell'immaginario americano al disastro. Quindi è un film che probabilmente non è stato recepito, non è stato capito. Per ragioni di statistica, quanti lo hanno già visto? Tre persone. Quanti lo hanno compreso? Due. Allora, Donnie Darko lo presentiamo così con un frammento di T.S. Eliot, un poeta inglese, che dice così «Nella mia fine è il mio principio». Allora, il film lo abbiamo inserito nella rassegna «La fine del mondo» perché la fine del mondo ha a che fare con il morire, quindi con il venir meno, la fine del mio mondo, no, è la mia morte, e la fine del mondo ha a che fare con il fine del mondo, cioè lo scopo del mondo. Allora, la domanda che Donnie Darko ci pone, inizierei così, è che cosa ha a che fare la fine del mondo, cioè la morte, con il fine del mondo, cioè il suo senso. In un altro linguaggio, che cosa ha a che fare la morte con il problema del vivere? Qual è il rapporto che noi abbiamo con la nostra fine, con la nostra morte, e in che modo il rapporto con la nostra morte ha a che fare con il modo in cui noi viviamo il tempo presente. Potremmo esordire così. Allora, è un film del 2001, è un film con una trama abbastanza strana, inizia così. Il 2 ottobre 1988, il motore di un aereo, quindi qualcosa che accade, che capita, la T che dicevano i greci, la sorte, qualcosa che io non ho previsto, accade, cade sopra la camera di Donnie Darko. Inizia così. A partire da quel giorno lì, Donnie Darko, che è un adolescente, un po' problematico, ma come tutti noi, non trova il suo senso, il suo orientamento del mondo, a partire da quel giorno lì, Donnie Darko inizia ad avere un'allucinazione. E questa allucinazione ha la forma di un coniglio antropomorfo, un coniglio nero, che si chiama Frank. Questo coniglio nero preannuncia a Donnie Darko la fine del mondo. E gli dà un tempo, dice tra 28 giorni, x ore, x minuti ed x secondi, ci sarà la fine del mondo. Donnie Darko che cosa fa? Si scrive questa data sul braccio. Ecco, il film inizia in questo modo. Allora, il film inizia con una premonizione, la fine del mondo, la mortalità, e Donnie Darko si scrive il tempo che resta, che è un'espressione di San Paolo. Noi stiamo vivendo il tempo che ci resta. Oggi, diceva Giovanotti, è il primo giorno del tempo che ci resta. Questo no, è la nostra condizione. Donnie Darko si scrive la data sul braccio. E cioè, il tempo per Donnie Darko non è più qualcosa di esterno che io misuro con l'orologio uguale per tutti. Ma il tempo è qualcosa che ha a che fare con il mio corpo, la mia vita e il mio stare nel mondo. Ecco perché se lo tatua sul braccio. Allora, io mi soffermo su alcuni aspetti della pellicola per permettere una visione più attenta. Chiaramente ce ne sarebbero altri. Lo noterete, ma non possiamo stare qui fino alle 5 a fare le premesse al film. I punti sui quali io mi soffermo sono questi. La costruzione della trama e il modo in cui la trama riprende la tragedia greca. E quindi ci sono dei riferimenti alla tragedia greca nella costruzione della trama, certamente. Ci sono dei riferimenti alla vita come rappresentazione teatrale. La nostra vita è quella di chi sta su un palco, diceva Shakespeare, a dire qualcosa privo di senso. E alla fine della rappresentazione non sarà successo niente. Il problema del tempo, non a caso c'è un libro che attraversa tutto il film, è un libro fittizio, cioè non esiste. E si chiama La filosofia dei viaggi nel tempo. Ecco, che cosa ha a che fare la filosofia dei viaggi nel tempo con il problema della morte, della fine del mondo? E poi la disseminazione dei significanti, adesso parolone difficili della semiottica. Cioè il film è disseminato di segni non riducibili ad una comprensione univoca. Il significante no, è il segno. E il significato è appunto la riduzione del segno a qualcosa che vale per tutti. Ecco, il film è pieno di segni. Cosa intendo per questi segni? Il riferimento ad Halloween, dei libri disseminati nel film. Noterete che già nelle prime inquadrature appare It di Stephen King. Appaiono dei film, L'ultima tentazione di Cristo, La casa di Sam Raimi e così via. Quindi è un film pieno di significanti, di riferimenti. Allora, come è costruita la sceneggiatura di Donnie Darko? No, il problema di chi si approccia a una pellicola del genere. Noi siamo abituati alla trama classica. Cioè c'è un inizio, c'è uno svolgimento della storia e c'è una fine. L'inizio normalmente può coincidere con la prima scena. Ecco, Donnie Darko non funziona così. Cioè in Donnie Darko potremmo dire c'è un mix tra questi aspetti. Cioè tra antistruttura, minimalismo e trama classica. Cioè non c'è un tempo lineare. Se noi guardiamo tutto il film, non riusciamo a capire qual è la fine, qual è il principio. Se ci sono degli universi paralleli e quindi se ci sono delle vite diverse che Donnie Darko vive. Cioè facciamo fatica a ricostruire questo puzzle. Quindi questa è la prima cosa che vi prego di tenere presenti. Non dobbiamo guardarlo come se ci fosse una trama lineare. Ma dobbiamo capire perché il regista ha voluto narrarci una storia del genere in qualche modo mescolando un'antistruttura. Cioè non c'è una coincidenza degli eventi. Se noi ragioniamo in termini di causa-effetto non capiamo più come mai lui qui è vivo, qui è morto, la mamma è viva, la mamma è morta, il papà doveva essere qui, no è da un'altra parte. Quindi primo aspetto, state attenti alla costruzione della trama. E secondo aspetto, il regista attraverso una trama destrutturata prova a mostrarci le molteplici prospettive da cui noi possiamo guardare le cose. Infatti il film è disseminato anche di questi simboli. Provate ad osservare quando appare il simbolo della spirale che è una, potremmo dire, la negazione sia della linea sia del circolo. La spirale è qualcosa che sembra ripetersi ma non è mai la stessa. Quindi qui in Donne d'Arco che cosa c'è? C'è sicuramente l'idea di rompere con la linearità del tempo, l'idea di rompere con la logica delle cause e degli effetti. C'è anche un altro aspetto, e cioè il film è ambientato nel 1988 e a tavola la famiglia di Donne d'Arco parla di elezioni presidenziali. Ecco, le elezioni presidenziali a cui fa riferimento la pellicola vedono sfidarsi Bush vecchio, il padre di George Bush, e Dukakis. Allora qui che cosa c'è? Beh, c'è un continuo richiamo a due modi di parlare. Parlare per convincere gli altri, ed è quello che fa questo presentatore interpretato da Patrick Swayze, protagonista di Ghost per chi ha qualche reminescenza cinematografica o di Dirty Dancing. E c'è la parola invece che cerca la verità. Cioè in Donne d'Arco ci sono due livelli di linguaggio, che sono anche i livelli di linguaggio che noi possiamo vivere a scuola. Cioè noi possiamo incontrare le parole degli altri per ripeterle o per convincere qualcuno, oppure possiamo avere un rapporto con il linguaggio che sia un rapporto di verità. Ecco perché ho messo sofisti versus Socrate. I sofisti erano abilissimi parlatori, facevano dei discorsi meravigliosi, ma non gliene fregava nulla del contenuto. Mentre per Socrate quello che si dice ha a che fare con il modo in cui si vive. Non c'è niente da fare. C'è proprio una contraposizione di linguaggi. In Donne d'Arco questa cosa emerge, ed emerge perché? Perché tantissime scene sono ambientate a scuola. dove ci sono queste biforcazioni, mai nette, però ci sono, tra insegnanti che insegnano cose da ripetere, dottrine, e insegnanti che invece segnano, cioè hanno un rapporto con i testi, fatti di segni che segnano la vita di chi li legge e di chi li incontra. Questo ovviamente in un grande gioco di specchi, perché noi abbiamo qui un segno cinematografico, cioè una pellicola che ha al suo interno altre pellicole ed altri libri. Il regista ha espressamente detto, ma la cosa è evidente se seguiamo il film, che la sceneggiatura di Donne d'Arco è strutturata secondo alcuni aspetti della tragedia greca. Quali sono questi aspetti che noi possiamo cogliere? Beh, anzitutto l'uso delle maschere. È un film dove spesso alcuni personaggi si presentano mascherati e dove il pretesto registico è lo ambientiamo durante i preparativi per la festa di Halloween, che è una festa sentita in Nord America, oggi mi verrebbe da dire sentita abbastanza anche da noi, ma Halloween ha a che fare con che cosa? Con il terribile, con la morte, con l'oscurità, con lo spettro, con tutto ciò che ci terrorizza. E cosa si fa per esorcizzare la paura? Ci si traveste da morti, ci si traveste da zombie, ci si traveste da ciò che ci spaventa, è quello che fa Batman. Batman è stato terrorizzato dai pipistrelli, e cosa fa? Si traveste dalla sua paura. L'uomo tigre è stato terrorizzato da Tana delle Tigri, si traveste da tigre. L'uomo ragno viene morso da ragno e si traveste da ragno, cioè c'è un rapporto con le proprie paure più profondo. Infatti una delle radici etimologiche di Halloween deriva dall'inglese, no? To hallow, cioè scavare, possiamo dire andare in profondità. C'è un altro aspetto importante della tragedia greca che viene qui ripreso, l'elemento del coro. Allora, nelle tragedie greche, alcuni commenti su quello che accadeva, adesso io banalizzo, vengono lasciati al coro. Supponiamo un gruppo di attori che canta o racconta quello che succede. Il regista qui lascia questo compito alla colonna sonora. Quindi quello che nella tragedia greca fa il coro, qui lo fa la colonna sonora. Se siete afferrati con l'inglese potreste già tradurre la prima canzone che apre Donnie d'Arco e che ci dice già qualcosa di importante e la canzone finale di Donnie d'Arco che poi io vi farò risentire con i sottotitoli perché è il commento finale del regista barra del coro greco alla tragedia che qui viene rappresentata. E qui nel film vedete questo coniglio Frank, antropomorfo perché ha la testa di coniglio, ma il corpo sembra quello di un umano. sembra un coniglio ma la faccia è molto più vicina a un teschio, è nero, cioè è come dire un'immagine molto più vicina alla morte che al carnevale. La maschera che il regista usa ha a che fare con un problema che viviamo noi e che qui in Donnie d'Arco si sente, il problema dell'identità. Chi siamo noi? In che modo il rapporto con gli altri ci dice qualcosa di quello che noi siamo? Le maschere nel mondo antico avevano a che fare con questo. E l'altro aspetto, la maschera nel mondo greco è la maschera funebre. Quindi la maschera ha a che fare col problema della morte. Cioè, col nostro problema, eh. Cioè, il problema della mortalità non è un problema di Donnie d'Arco, è chiaramente nostro. Alcuni significanti presenti nel film. Allora, le prime inquadrature vedrete un riferimento ad Halloween, vedrete appunto un frigo aperto con la scritta Dov'è Donnie? Ma come? Ma se è qua? È esattamente qua. Come mai c'è questa scritta? E poi la mamma legge It di Stephen King. It, pronome personale, ma riferito a cose, animali, non mai ad umani. Quindi It è quel qualcosa senza forma, senza nome, di cui i ragazzini, i protagonisti del romanzo di King hanno paura. Ed ognuno in It trova qualcosa di diverso. Cioè, le paure prendono la forma delle nostre paure. It diventa per ognuno di noi qualcosa di diverso. Ma It, dice Stephen King, ha a che fare con l'origine di tutte le paure che, come diceva Thomas Hobbes, è la paura di morire. Cioè, qui, l'origine di tutte le paure è la paura della morte. Poi, a partire da quella, ci sono tutte le altre paure segmentate. No, ho paura dei ragni, ma perché? Perché se mi mordono ho paura di morire. Ho paura del buio perché se è nel buio posso trovare qualcuno che mi fa del male e quindi muoio. Cioè, l'origine di tutti i timori è il morire, che è esattamente l'aspetto più martellato in Donnie d'Arco. Ecco, la pellicola, anche qui, fa leva su queste categorie cercando non di separarle, ma di mostrarne la polarità e la complessità. Destino, libertà. Tutto è già predestinato o facciamo quello che vogliamo? Ecco, Donnie d'Arco cerca di dirci guardate che le cose sono molto più complesse. perché destino e libertà sono intrecciate. Potrebbe cadere un motore dal cielo e potrebbe schiacciarmi, ma quello che io ho vissuto finora dipendeva da me. Quindi il destino, ciò che cade, rivela la libertà dei miei atti che fino a quel momento si è prodotta. Destino e libertà si incontrano sempre. potrebbe venirci una malattia, il caso, ma il modo in cui finora noi abbiamo vissuto e affrontiamo la malattia dipende anche dalla nostra libertà. Quindi Donnie d'Arco cerca di mostrare che questi aspetti sono complementari. Anche paura e amore sono due temi evidenziati nella pellicola e Donnie d'Arco ci mostra che non sono mai separabili. Che la paura non è qualcosa da togliere, ma è qualcosa da ascoltare. Come la mortalità non è qualcosa che noi possiamo togliere, è qualcosa che noi possiamo accogliere per vivere in un altro modo. Ecco, queste sono due pellicole citate nel film dove i protagonisti vanno al cinema, quindi c'è un cinema nel cinema e al cinema danno queste due pellicole ma noi non sappiamo se loro le hanno viste entrambe, se ne hanno viste solo una e come mai il regista le ha accostate. C'è un altro testo che viene citato I distruttori di Graham Grimm è un raccontino breve in cui dei ragazzi distruggono e danno fuoco ad una casa vecchia. allora è un testo di cui parla la professoressa di Donni d'Arco a lezione è un testo che ha a che fare anche sembra col passato di Donni d'Arco perché in passato ha bruciato una casa e perché il regista lo ha inserito? Perché c'è un discorso attorno alla natura di nuovo dell'educazione cioè educare vuol dire educere cioè tirar fuori qualcosa dall'altro mentre nel mondo della scuola che vive Donni d'Arco educare significa imparate qualcosa a memoria che poi vi interrogo ci sono due modi dell'educare in Donni d'Arco si mostrano entrambi e anche qui Halloween no? segno onnipresente nel mascheramento e nei richiami e qui c'è una battuta del film no? perché indossi quello stupido costume da uomo quindi il mascheramento non è soltanto il mascheramento visibile è anche il mascheramento interiore che ognuno di noi ha sono anche le maschere che ognuno di noi porta ecco qui no 28 giorni 6 ore 42 minuti 12 secondi è il tempo che manca la fine del mondo allora la pellicola che è necessariamente temporale va da un inizio ad una fine quindi è anche è un riferimento al cinema ci dice che cosa beh insomma che oggi no è il primo giorno del tempo che resta come lo vivo e allora in Donnie d'Arco c'è questo aspetto che io ho riassunto con le parole di Heidegger si dice la morte verrà certamente ma per ora non ancora cioè Heidegger che è un pensatore tedesco novecento ci dice insomma noi come la liquidiamo la faccenda della mortalità con il sì impersonale cioè si muore cioè muoiono gli altri ma mica un problema mio allora Heidegger dice quando noi la viviamo così si chiama vita inautentica perché perché non mi rendo conto che il problema della mortalità non è degli altri è mio e non riguarda il futuro per la miseria riguarda il presente cioè il problema della morte in Donnie d'Arco ma anche in Heidegger non è togliere la morte è capire che quell'evento lì è presente e siccome è presente devo vivere diversamente allora questo rovesciamento di prospettiva Heidegger lo chiama la vita autentica infatti c'è tutto un riferimento anche climatico nel film tra il giorno e la notte le persone che dormono e le persone che sono sveglie provate a farci caso il film inizia all'alba inizia con un Donnie d'Arco in posizione quasi fetale su una strada in mezzo alle montagne noi potremmo dire è un momento di nascita è l'alba è in posizione fetale la notte è finita si sta svegliando svegliati Donnie è il mantra che il coniglio Frank ripete costantemente svegliati 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 cosa vuol dire svegliarsi Heidegger ci direbbe vuol dire rendersi conto che la mortalità è un problema nostro non si muore generalmente infatti no il problema della morte è il problema della vita etica allora perché il mondo finirà chiede Donnie perché devo morire il problema del rapporto con la fine ha a che fare con il modo in cui noi viviamo e diamo senso al tempo infatti non è un caso se il testo che viene citato è questo la filosofia dei viaggi nel tempo di Roberta Sparrow che scopriremo solo alla fine chi è questa Roberta Sparrow che scrive il testo cioè il problema della mortalità ha a che fare con il problema del tempo del modo in cui noi lo viviamo piccola particolare Donnie guardandosi allo specchio spesso vede il coniglio Frank e guardando meglio vede riflessa nella sua pupilla la testa di Frank che è una testa di morte qui il regista ha ripreso questo quadro di Escher se notate nella pupilla si rispecchia un teschio quindi qui è il rapporto di nuovo con la mortalità che io ho di fronte tutti i giorni quando mi guardo e ultimo passaggio perché il coniglio allora il coniglio nero è un rovesciamento del coniglio bianco di Alice nel paese meraviglie che cosa fa il coniglio in Alice è ossessionato dal tempo ha fretta e in questa fretta guida Alice Alice entra nel paese meraviglie seguendo il coniglio bianco il coniglio nero qui invece guida donni d'arco potremmo dire il senso del tempo è il tempo del senso cioè il senso del tempo noi diciamo vabbè è l'orologio l'orologio cosa fa ripete sempre lo stesso giro è quello il senso del tempo oppure pensiamo al tempo come ad una linea che è l'immagine più inflazionata da chi insegna storia questa è la linea del tempo ha una direzione l'anno zero prima di Cristo dopo Cristo si va avanti ecco donni d'arco ci pone questa questione veramente si va avanti avanti verso dove verso la fine e quindi il senso del tempo è quello di andare verso la fine al senso del tempo che è quello di andare verso la fine o di ripetersi infinitamente orologio e donni d'arco ci propone il tempo del senso cioè quando è che noi invece diamo senso alle cose quando in qualche modo riusciamo a sottrarle dalla mortalità e possiamo dire beh se morissi domani quella roba lì l'ho fatta do senso al tempo e questo emerge prepotentemente nella pellicola non solo in donni d'arco ma nei suoi amici negli altri personaggi che popolano il teatro di questo film ecco basta io mi fermo qua e beh grazie allora quando abbiamo terminato la proiezione vi faccio risentire la colonna sonora finale con i sottotitoli perché perché partirò da lì cioè quello è il commento che fa il regista attraverso il coro al suo film e quindi dobbiamo chiederci come mai il regista ha scelto questa conclusione se è una conclusione una nota per i curiosi del film circolano due versioni questa che dura un'ora e cinquantatré e la director's cut che dura due ore e un quarto circa che differenza c'è noi vedremo quella di un'ora e cinquantatré quella da due ore e un quarto ha al suo interno dei passaggi in cui vengono maggiormente spiegati alcuni aspetti relativi ai viaggi nel tempo al ponte Einstein Rosen tutti aspetti per esempio che forse voi avete trovato in Interstellar se qualcuno l'ha visto ecco quindi tutti questi aspetti qui nella seconda pellicola vengono maggiormente esplicitati ma io ho scelto questa prima versione perché perché è maggiormente poetica è più in sintonia con il significante del film cioè il film è difficilmente riducibile ad una spiegazione ma perché perché probabilmente la nostra vita non è riducibile ad una spiegazione in termini di causa-effetto tempo lineare andare verso una fine non è riducibile non è riducibile non è riducibile non è riducibile ma è riducibile non è riducibile